Sofia Loren è una delle grandi icone, forse la più grande icona oggi vivente della nostra città, della nostra cultura, della nostra bellezza e anche della nostra internazionalità. Quindi a lei va un grandissimo augurio, un grande ringraziamento per quello che ha fatto per noi e ci auguriamo che continui ad essere un punto di riferimento per i nostri territori e soprattutto per le nuove generazioni. Abbiamo pensato di ricordarla proprio con la proiezione di uno dei suoi film più iconici nelle scuole, proprio perché anche i più giovani, i nostri ragazzi la possano conoscere come grande simbolo della nostra città.